Ciao a tutti qui da Darsana, da un bellissimo bosco e sono in compagnia della nostra Saja e siamo qui per, con felicità e gioia, invitarvi al nostro prossimo evento che teniamo insieme all'Istituto di Osho Miasto dal 13 al 15 settembre, che è il Be Total, dove esploreremo i vari modi di essere più creativi ed essere più totali e vivere con più creatività e totalità. E abbiamo vari strumenti, abbiamo messo insieme vari strumenti, ognuna di noi i suoi e per quanto mi riguarda io utilizzerò varie tecniche di meditazione, utilizzerò un lavoro di riconnessione con Madre Terra, una camminata sensoriale, un bagno di bosco e tutto questo con gioia e con profondità al tempo stesso. E la nostra Saja porterà anche lei i suoi strumenti. Porterò la pittura come strumento di riconnessione con la natura, con il nostro paesaggio interiore e con i quattro elementi che fanno parte di noi. La pittura è quello spazio magico in cui ognuno di noi può esplorare, può sentirsi libero, non ci sono giudizi alcuni e possiamo veramente guardare ciò che si nasconde dentro di noi con celebrazione e divertimento. Lo uniremo anche al movimento fluido in acqua calda, poiché l'acqua è quell'elemento che ci fa andare in uno stato di let go e quindi lasciare andare tutte le nostre preoccupazioni quotidiane per far sì che diventiamo veramente aperti, aperte a ricevere la creatività in tutte le nostre cellule. E a questo punto vi aspettiamo, vi aspettiamo per venire a vivere con più totalità e creatività insieme a noi e quindi vi totale! Vi totale!